È ormai di dominio pubblico che i paesi del blocco BRICS, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica stanno lavorando ad una nuova voluta per porre fine alla dominanza del dollaro. E tra i principali promotori di questa iniziativa c'è appunto la Cina. Cina che però in questo momento non se la passa particolarmente bene a livello economico. E quindi in questo video approfondiremo perché la Cina è diventata la Cina, quindi una superpotenza economica, quali sono le difficoltà che sta affrontando in questo momento l'economia cinese e quali sono le minacce di lungo periodo all'economia cinese. E ringraziamo Pechino e il governo di Xi Jinping per aver sponsorizzato questo video. Quindi senza ulteriore indugio iniziamo. È stato Deng Xiaoping tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 a porre le fondamenta per la Cina che conosciamo oggi. Perché proprio grazie a Deng Xiaoping la Cina si è aperta agli investimenti esteri. E questo ha gettato le fondamenta per la nascita del settore privato sotto una visione centralizzata del governo. La Cina quindi piano piano inizia a crescere a livello di economia perché crescono esponenzialmente le sue esportazioni. Negli anni 80, 90 e 2000 il punto di forza della Cina è l'enorme popolazione con redditi da fame, perché parliamo principalmente di agricoltori. Bene, queste persone iniziano ad andare a lavorare nelle aziende, un po' come è successo nel boom del dopoguerra qui in Italia. Si avvia una fase di industrializzazione e la Cina diventa l'equivalente dell'azienda manifatturiera più grande del mondo, proprio perché ha sempre a disposizione mano d'opera, parliamo di un miliardo e mezzo di persone, che costa poco e produce prodotti molto economici che vengono esportati in tutto il mondo. Con questa strategia la crescita dell'economia cinese è esponenziale, con dei tassi di crescita del 10% medio anno per i decenni tra gli anni 80, 90 e 2000. Il risultato a livello di peso dell'economia cinese sull'economia mondiale è incredibile, soprattutto se confrontiamo la situazione del 2002 con la situazione del 2022. Nel 2002 il peso dell'economia cinese a livello di prodotto interno lordo mondiale era l'8% ed è salito al 18.8%. Il peso degli Stati Uniti è passato invece in 20 anni dal 19.8% al 15.8%. Lo stesso calo lo possiamo apprezzare anche per l'Europa. E ad oggi l'economia cinese non è più solo manifattura, che comunque rimane il principale elemento della sua economia e pesa circa per il 33%, ma è un'economia comunque sufficientemente diversificata. Abbiamo il settore finanziario 8%, l'agricoltura un altro 7,5%, costruzione, immobiliare 15%, trasporti 4% eccetera. E il fatto che l'economia mondiale dipenda dalla manifattura cinese l'abbiamo apprezzato proprio durante il 2021-2022, quando ci si è accorti cosa vuol dire il blocco della catena di fornitura che ha tra i fornitori principali produttori cinesi. Se ci ricordiamo cosa è successo a partire dal 2020, il mondo inizia ad andare in lockdown in modo intermittente, chi prima chi dopo, però quello che ci si accorge subito è che i produttori cinesi iniziano a non consegnare. E nel 2021, se volevi comprare, non so, una bicicletta, trovare una bicicletta fatta in Italia oggi è difficile, bene, tempi di attesa 12-18 mesi, perché la produzione anche di brand molto rinomati, noti a noi europei o agli americani, è fatta principalmente là. E questo è il fenomeno di un principio chiamato globalizzazione, che ha iniziato a partire da metà degli anni 70, inizio anni 80, fino appunto a un'era pre-covid. Adesso paradossalmente ci si è accorti di quali sono i rischi di avere una catena di fornitura per le aziende così distribuite a livello mondo, soprattutto in paesi con regime totalitari come la Cina, ci arriviamo tra poco su come hanno gestito il covid, e il rischio è che se si blocca la Cina si blocca il resto del mondo. Quindi paradossalmente adesso molte aziende stanno vivendo un fenomeno contrario, cioè di reshoring si dice in inglese, invece che portare la produzione in Cina, la stanno riportando o nel paese in cui operano, o comunque in zone più vicine, magari l'Europa dell'Est, che ha comunque dei vantaggi in termini di costo di produzione, però ha anche una cultura molto più simile alla nostra, e quindi meno problemi qualora si ripresentasse uno scenario che nessuno si augura, come un blocco alla catena di fornitura che abbiamo visto tra il 2020 e il 2021. Hai un'attività online o stai pensando di crearne una? Oppure stai cercando dei metodi per capire come monetizzare l'influenza che hai sugli altri? Se è così, allora non perderti l'evento che abbiamo organizzato dal titolo Monetizza la tua influenza. Un webinar pensato per imprenditori, influencer, clienti di piano finanziario, in generale chi segue piano finanziario e chi è interessato a monetizzare la propria influenza creando partnership di valore. L'evento è totalmente gratuito e si trarà mercoledì 24 maggio alle ore 21. Se vuoi ottenere un ritorno sull'investimento della tua rete di contatti, non perderti questo evento. Ti aspetto, trovi tutti i dettagli nel link che trovi qui in basso. Ma parliamo di covid e di come è stata appunto gestita dalla Cina l'emergenza sanitaria, perché è stata da molti definita un vero disastro, o meglio in altre parole la loro campagna Zero Covid da molti è stata definita una campagna di prigionia, che ha permesso al governo cinese di utilizzare appunto la pandemia per accumulare ulteriore potere politico. Il risultato è stata una gestione totalitaristica con un approccio non scientifico e una catastrofe umanitaria. E nell'autunno scorso erano innumerevoli le proteste in piazza da parte dei cittadini cinesi, perché si ritrovavano ad essere ancora una volta costretti in lockdown in un mondo che invece aveva alleggerito o quasi totalmente eliminato le restrizioni legate alla pandemia da covid. Questo ha fatto sì che l'emergenza sanitaria in Cina sia durata molto di più di quanto non sia durata in Europa o negli Stati Uniti. E questo è particolarmente importante, proprio perché associata all'emergenza sanitaria e alle misure di contenimento della pandemia ci sono degli impatti a livello di crescita economica. Ma la Cina adesso pesa il 18% dell'economia mondiale, pesa quasi come gli Stati Uniti. In realtà se la giocano, ok? Adesso sono veramente praticamente uguali come peso a livello mondiale. Ed è questa la ragione per cui ne stiamo parlando, perché non possiamo parlare di crescita economica a livello mondiale senza capire che cosa sta succedendo in Cina. Infatti molto spesso parliamo di America ed Europa, ma oggi è il turno della Cina, che però, come abbiamo capito, è in una fase molto ritardata del suo processo di normalizzazione a seguito dell'emergenza sanitaria. Quindi se guardiamo cosa è successo all'economia cinese negli ultimi anni, vediamo appunto una progressiva riduzione della crescita, ma ci sta, perché come abbiamo visto è cresciuta per tre decenni ad un tasso del 10% all'anno. A partire dal 2010 è iniziato una riduzione della crescita, non vuol dire un calo, vuol dire che è cresciuta con tassi di crescita via via più. Non dico da paesi sviluppati che quando fai un 2-3% di crescita all'anno è tanta roba, ma comunque una condizione intermedia, ok? Una media del 6%. Poi nel 2020 ha subito una grossa flessione della crescita economica. In tutto il resto del mondo abbiamo visto segnali negativi, vado a memoria, meno 4% di prodotto interno lordo per l'America, meno 8-9% in Europa circa. 2021 rimbalzo, ma quello che è ampiamente sotto le attese è stato il debole 2022, con una crescita molto contenuta, che invece per il resto del mondo è stato di forte rimbalzo. E per quest'anno la Cina si dà degli obiettivi ambiziosi, il suo obiettivo è raggiungere una crescita del 5% per il 2023 ed è confidente di poter recuperare a livello economico i risultati molto sotto le attese per quanto riguarda il 2022. Soprattutto perché adesso dichiara di aver definitivamente vinto la sua battaglia contro la pandemia da Covid-19. Se si confermasse un tasso di crescita del 5% per la Cina confermerebbe i tassi di crescita cinesi come i più elevati a livello mondo. Però come vedremo ci sono minacce alla crescita cinese. Ciò nonostante anche il Fondo Monetario Internazionale prevede una crescita al 5.2% per quest'anno e una crescita dell'economia mondiale al 2.9%. Ma questo era un articolo di marzo 2023. Dati più aggiornati sull'economia cinese di metà maggio smentiscono un po' queste previsioni e si legge come i dati sull'economia cinese non centrano le aspettative relativamente alla ripartenza economica dopo la fine dei lockdown di fine 2022. La produzione industriale cinese è cresciuta del 5-6% il mese scorso rispetto all'anno precedente molto al di sotto delle aspettative che prevedevano una crescita del 10% e anche le vendite al dettaglio sono cresciute del 18 e mezzo per cento ma molto sotto le aspettative. Cioè molto sotto quello che ci si sarebbe aspettati da un'economia che usciva definitivamente da un'emergenza sanitaria. I consumi sono ripartiti però quello che preoccupa è appunto il basso livello di attività cioè di come dire di effervescenza della manifattura delle aziende e il basso tasso di investimenti rispetto alle aspettative e soprattutto un'elevata disoccupazione giovanile. Elementi che non fanno ben sperare in una crescita economica. Ti ricordo come al solito che puoi scaricare tutte le slide che sono ben di più di quelle che ti mostrerò in un pdf che puoi trovare alla fine del video e come al solito è totalmente gratuito. Altri segnali che non lasciano ben sperare sulla crescita dell'economia cinese sono indicatori che ormai dovremmo avere imparato a riconoscere. Tra questi l'inflazione. La Cina non ha visto il picco di inflazione che abbiamo visto noi in Europa e negli Stati Uniti a partire dalla fine del 2021 e inizio del 2022 e questo grafico è molto bello perché ci fa capire appunto man mano che l'area diventa rossa l'inflazione che sale e quello che notiamo nei mesi di febbraio e di marzo è un raffreddamento dell'inflazione per quanto riguarda appunto l'Europa e gli Stati Uniti ed è un segnale che c'è stata crescita economica perché nel 2021 e 2022 i consumi sono andati alle stelle in Europa e negli Stati Uniti. In Cina no e lo vediamo da come proprio loro sono in una condizione di inflazione bassa quasi asettica 0,7% l'ultima rilevazione che non è un'inflazione tipica da consumi in crescita perché l'inflazione è uno dei termometri dello stato di salute dell'economia. Se è alta significa che i consumi sono importanti, l'economia è forte, le persone vogliono spendere soldi quindi i prezzi tendono ad aumentare. Quando aumentano oltre una soglia considerata inaccettabile, in un mondo ideale dovrebbe essere il 2%, secondo il mandato delle banche centrali, le banche centrali aumentano i tassi di interesse e raffreddano l'economia, riducono i consumi e di solito l'inflazione magari non è che si ristabilizza proprio al 2, potrebbe tendere a scendere verso lo 0, verso valori anche negativi di deflazione e in quel caso lì poi una banca centrale riapre i rubinetti del denaro, torna a stimolare l'economia e in un mondo ideale, sempre a livello teorico, ci si riporta verso il 2%. Quello che emerge guardando l'economia cinese è che questo non è che stia succedendo, anzi l'inflazione sta continuando a calare in un contesto in cui i tassi di interesse sono stati fatti calare nel 2022 perché l'economia cinese non reggeva un 3,75% più o meno di tasso di interesse e quindi per stimolarla sono stati fatti vari tagli dei tassi di interesse e adesso siamo ad un 3,65%. L'economia cinese cresce, ma non è che cresca tantissimo, potremmo dire che crescicchia e le conferme oltre che dall'evoluzione dell'inflazione, dalle stime di pille eccetera, le troviamo da altri indicatori, esempio il PMI che abbiamo già commentato in altri video. Il PMI o Purchasing Manager Index è l'indice dei direttori acquisti, quando questo indice è superiore a 50 significa che i direttori acquisti delle aziende che operano in una determinata nazione vedono ordinativi in crescita e quindi devono ordinare nuovi materiali per assecondare una domanda crescente. Sotto a 50 questo è segno che i direttori acquisti stanno ordinando meno materiali, meno materie prime e quindi verosimilmente è perché o hanno i magazzini pieni o ci sono meno ordini, in generale è un indicatore di crescita non particolarmente effervescente. La Cina è sì sopra al 50 ma non di molto o comunque non di quanto ci si aspetterebbe in una condizione di fine definitivo del lockdown. Giusto per contestualizzare, quando siamo usciti dal lockdown nell'area euro il PMI aveva raggiunto un livello oltre 60 e ha toccato quasi punte di 65, cioè c'era un forte desiderio di consumare e quindi l'economia ha recuperato molto velocemente. E lo stesso discorso vale anche per gli Stati Uniti, anche loro hanno toccato punte di 65 di PMI. Quindi non è un caso se molti indicatori dell'economia cinese sono sì in crescita ma con una crescita deludente. Tra queste le vendite al dettaglio, la stima degli analisti era 21%, il risultato è stato 18%, dati sotto le attese anche per quanto riguarda i nuovi finanziamenti, quindi nuovi mutui, i nuovi investimenti, tutti i dati economici sotto le attese. A questo si aggiunge una minaccia di cui non si parla molto sui giornali che però potrebbe diventare una vera polveriera ed è un problema che accomuna un po' tutti i paesi in questa fase economica ma di cui sappiamo poco relativamente alla situazione cinese. E mi riferisco alla crisi del debito. AM commentando il video in cui abbiamo parlato del tetto al debito statunitense dice tranquilli fallisce prima la Cina con 60 mila miliardi di debito e il 300% di deficit pill, il doppio degli USA. Allora non mi trovo particolarmente in linea con i numeri del commento però è indiscutibile che in Cina stia emergendo una crisi del debito. Attenzione, attenzione perché quando si parla di Cina una cosa che dobbiamo dare per scontato è che essendo uno stato totalitario, una dittatura, ok per capirsi, quella del partito comunista cinese, i dati che possiamo elaborare non è che sono poi molto trasparenti e quindi possono essere falsati, possono essere incoerenti tra le fonti. Cioè parliamo di un contesto in cui cosa succede esattamente là non è neanche detto che lo sappiano tutti i cinesi, ok? Il debito pubblico secondo le fonti ufficiali dovrebbe essere in forte crescita ma comunque all'interno di numeri ragionevoli. Parliamo di circa l'80% del debito pubblico rapportato al prodotto interno lordo, il GDP, quindi all'economia della Cina. Ma quello che preoccupa maggiormente è il debito delle città cinesi che non sono esperto di contabilità del debito pubblico della Cina però evidentemente non è all'interno del debito pubblico, è un debito pubblico locale, delle municipalità. Il problema è che questo debito pubblico è in una condizione di stress, sembra essere nascosto quindi non visibile soprattutto a occhi non particolarmente esperti e soprattutto occidentali ma in questo momento sta esplodendo e quindi dopo tre anni di controlli per la pandemia un crollo dell'immobiliare che ha comunque avuto un impatto sulle municipalità lasciano le autorità locali e le municipalità con una montagna di debito. I problemi sono recentemente esplosi perché molte città sono ora incapaci di poter garantire servizi al cittadino di base e il rischio di default è via via crescente. Gli analisti stimano che il debito pubblico della Cina sia di circa 18 trilioni di dollari che appunto già c'è una prima incongruenza perché non mi torna il debito pubblico rapportato al PIL ma quando si parla di Cina è normale che non tornino i numeri ok? Perché il problema è che 10 di questi trilioni vengono definiti debito nascosto che è posseduto dai governi locali e quando lo stress finanziario sul debito è iniziato a salire a partire dagli ultimi mesi dell'anno scorso i governi regionali delle municipalità hanno iniziato a ridurre gli stipendi, tagliare i servizi al cittadino come i trasporti, ridurre i sussidi alla benzina che devono avere là e tra l'altro l'hanno fatto in un inverno piuttosto duro dal punto di vista climatico. E la Cina in certe zone è particolarmente fredda ad esempio io nella mia vita precedente alla dipendente sono andato un paio di volte ad Arbin che è famosa per il festival del freddo perché in inverno fa meno 30. Da questo articolo di CNN si capisce quanto non si capisce quanto sia il debito pubblico delle municipalità e di conseguenza il debito pubblico dell'intera dell'intero governo cinese che secondo altre stime di analisti potrebbe essere al 102 per cento, sì più basso di quello degli Stati Uniti che dovrebbe essere circa al 122 per cento. In realtà secondo le fonti della Casa Bianca siamo già al 130 per cento per gli Stati Uniti. Ah breve introduzione se vuoi un approfondimento sul debito pubblico americano scrivicelo scrivici tipo gli USA falliranno facci ridere con qualche commento divertente faremo un approfondimento. Quindi sì il governo cinese è inferiore a quello americano ma quello che è sconvolgente è il tasso di crescita del debito perché il debito pubblico è raddoppiato dal 47 per cento circa stima del 2016. Quindi i rischi finanziari in Cina ci sono. Non sono particolarmente evidenti perché la gravità della situazione è difficile da comprendere però in Cina le amministrazioni fanno delle cose veramente imponenti che costano soldi ed evidentemente adesso con un'economia che non cresce in modo vigoroso c'è un problema di sostenibilità. Il governo centrale cinese ha però avvertito dicendo attenzione municipalità noi non viveremo a salvare ma emerge che comunque Beijing cioè il governo abbia dato comunque un supporto alle province alle città in difficoltà prestando ulteriore denaro. Questa è la ragione per cui Xi Jinping ha bisogno di un veloce recupero economico per sostenere il suo livello di indebitamento che punterà a ridurre poi più avanti. Queste sono le difficoltà che sta vivendo in questo momento l'economia cinese che però si sommano a difficoltà strutturali cioè non contestuali della situazione di questi mesi o di questa fase del ciclo economico parliamo di problemi più gravi che potremmo definire generazionali per quanto riguarda l'economia cinese. Il problema è legato alla demografia cinese e il fatto che sta venendo meno la forza della manifattura cinese cioè la manovalanza a basso costo perché i cinesi stanno invecchiando con la loro politica del figlio unico che poi è stata abbandonata qualche anno fa e adesso si possono avere fino a tre figli per ogni famiglia la popolazione media è profondamente invecchiata e se invecchia e se esce dal mercato del lavoro abbiamo un problema ci sono meno persone che possono andare a lavorare meno famiglie nuove che si creano che quindi devono comprare beni servizi per far crescere la famiglia perché tipicamente associata alla natalità ci sono dei costi magari devi cambiare macchina prenderla più grande devi cambiare casa devi spendere per acudire i tuoi figli eccetera c'è un'economia che si genera con la demografia ed è quella di cui abbiamo goduto nel dopoguerra con i baby boomer e lo sviluppo economico a partire dagli anni 50 in poi. Bene questa forza trainante cinese che è stata la demografia che poi loro hanno sfruttato in modo abile utilizzando questa forza per l'industria e rendendo la Cina la fabbrica del mondo bene questa forza sta venendo meno. Chiaramente questo non è un fenomeno che si manifesta da un anno all'altro ma è qualcosa che si è manifestato nel corso di decenni ed è un trend che richiederà decenni per essere invertito però a livello di completezza di questo video ritenevo fosse importante comunque dare questa informazione. L'economia cinese si gioca quindi la prima posizione in termini di principale economia mondiale con gli Stati Uniti che come abbiamo visto in altri video non stanno crescendo con la stessa dinamicità del 2022 nessuna nazione a livello mondo a forza parte l'India sta crescendo con particolare dinamismo in questo 2023 e la Cina uscita per ultima dall'emergenza sanitaria non sembra dare quel contributo alla crescita economica che ci si aspetterebbe da un'economia che terminata l'emergenza sanitaria torna a consumare.